siamo sempre la solita panchina al parco natura oggi 20 giugno 2019 i signorini qui hanno fatto di tutto e di più tra bagliate alle persone comunque la famiglia è sempre riunita qua grazie va bene dai sta arrivando un cane grosso abbastanza grosso abbiamo un levriero è tranquillo come cane però meglio lui è tranquillo se ti vuoi che non siete tranquilli dai dai guardaci la saluta 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 amore mio dai ciao buona giornata a tutti buona giornata ciao 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 ciao